Questa presenza non è soltanto una presenza che noi apprezziamo di saluto e di incontro per conoscerci ma anche per costruire qualcosa insieme perché è importante questo rapporto visto che la Chiesa Bolognese poi attraverso la Caritas e altre strutture entra in contatto con persone emarginate socialmente quindi c'è bisogno di risposte e anche di sinergie per cercare di mettere a punto una strategia comune. Stiamo cercando di capire quali sinergie ci possono essere perché ACER può essere un punto di riferimento a supporto delle esigenze in caso di ristrutturazione, di assegnazione, il comune che ha lo sportello sociale il comune è il soggetto che riceve, questa sinergia fra i tre soggetti può produrre dei risultati l'ho detto ieri anche per l'agenzia per l'affitto perché è la fascia grigia che ci interessa non solo chi è che è in una casa popolare a 50 euro, chi paga l'affitto a 700 ma c'è quella fascia grigia che potrebbe permettersi 300 euro e con un'agenzia per l'affitto e già in altre realtà tipo a Lucca la Chiesa ha fatto un accordo molto bello, molto preciso su questo siccome la disponibilità del Vescovo su questi temi c'è sempre stata ci metteremo a lavorare insieme per una convenzione, un accordo di programma vedremo che cosa poter fare